artur rimbaud lettera del veggente il primo studio dell'uomo che voglia esser poeta è la propria conoscenza intera egli cerca la sua anima l'indaga la tenta l'impara appena la sa deve coltivarla la cosa sembra semplice in certi in ogni cervello si compie uno sviluppo naturale tanti egoisti si proclamano autori ce ne sono molti altri che si attribuiscono il loro progresso intellettuale ma si tratta di fare l'anima mostruosa come i compragicos insomma immagini di un uomo che si pianti verruche sul viso e le coltivi io dico che bisogna essere veggente farsi veggente il poeta si fa veggente mediante un lungo immenso e ragionato disordine di tutti i sensi tutte le forme d'amore di sofferenza di pazzia egli cerca se stesso esaurisce in sé tutti i veleni per non conservarne che la quintessenza ineffabile tortura nella quale egli ha bisogno di tutta la fede di tutta la forza sovrumana nella quale egli diventa il grande infermo il grande criminale il grande maledetto e il sommo sapiente egli giunge infatti all'ignoto poiché ha coltivato la sua anima già ricca più di qualsiasi altro egli giunge all'ignoto e quando anche smarrito finisse col perdere l'intelligenza delle proprie visioni le avrà pur viste riprendo dunque il poeta è veramente un ladro di fuoco all'incarico dell'umanità degli animali addirittura dovrà far sentire palpare ascoltare le sue invenzioni è ciò che riporta di laggiù a forma e gli dà forma se è informe e gli dà l'informe trovare una lingua nel resto dato che ogni parola è idea verrà il tempo di un linguaggio universale bisogna essere un accademico più morto di un fossile per portare a termine un dizionario di qualunque lingua sia se dei deboli si mettessero a pensare sulla prima lettera dell'alfabeto rovinerebbero subito nella pazzia questa lingua sarà dell'anima per l'anima riassumerà tutto profumi suoni colori pensiero che uncina il pensiero e che tira il poeta definirebbe la quantità di ignoto che nel suo tempo si desta nell'anima universale egli darebbe di più della formula del suo pensiero della notazione della sua marcia verso il progresso enormità che si fa a norma assorbita da tutti egli sarebbe veramente un moltiplicatore di progresso quest'avvenire sarà materialista come lei vede sempre piena di numeri e di armonia queste poesie saranno fatte per restare e in fondo sarebbe ancora un po' la poesia greca l'arte eterna avrebbe la sua funzione così come i poeti sono cittadini la poesia non ritmerà più l'azione sarà più avanti questi poeti saranno quando sarà spezzata l'infinita schiavitù della donna quando ella vivrà per sé e grazie a sé dopo che l'uomo finora abominevole l'avrà congedata sarà poeta anch'essa la donna troverà dell'ignoto i suoi mondi di idee saranno diversi dai nostri troverà cose strane insondabili ripugnanti deliziose noi le prenderemo le capiremo nel frattempo chiediamo ai poeti del nuovo idee e forme